one podcast caffettino weekend tutte le notizie tech di questa super settimana del nostro caffettino buongiorno e bentornati al caffettino bentornati al riepilogone della domenica qui ci mettiamo tranquilli vediamo tutte le news della settimana se vi siete perse o se volete fare un bel riepilogone tanta è stata diciamo la settimana scorsa ricca di eventi offline cioè sono stato in giro per eventi con degli speciali tanto questa settimana è stata ricca di news che tra l'altro anche documentato sul mio profilo instagram e tiktok mario moroni se ti va puoi seguirmi anche lì altrimenti c'è il caffettino tutti i giorni 7 su 7 qui pronti partenza via cominciamo mettiti comoda e mettiti comodo con le news abbiamo cominciato la settimana con una bella intervista a filippo rizzanti le cto di reply abbiamo parlato di intelligenza artificiale di percorsi anche del suo percorso come imprenditore locale inizialmente poi con azienda pazzesca come reply ecco interessante capire la sua visione sull'intelligenza artificiale abbiamo cominciato con il caffettino due voci la settimana bene martedì abbiamo parlato di ilo maschi da un po non parlavamo del buon ilon perché il punto della situazione di spacex è molto interessante sta facendo degli esperimenti pazzeschi e devo dire la verità bisognava fare un punto della situazione la puntata nel martedì analizziamo come sta andando spacex e quali potrebbero essere anche i prossimi futuri di questa azienda che ha come obiettivo quello di portarci fuori dalla terra avanti e indietro beh non male scala e joansor e la voce di chat gpt perché dobbiamo riflettere su questa notizia puntata caldissima quella di mercoledì che vi ha entusiasmato anche nei commenti sul canale telegram mario moroni canale e sui social perché forse non è necessario avere la voce precisa di un'attrice così brava basta mutuare copiare le intonazioni vocali e voi che ne pensate uber risolverà il problema dei mezzi pubblici questa è la domanda grande importante ci facciamo nella puntata di giovedì perché da una sperimentazione che è andata benissimo in india molto interessante questa sperimentazione di prendere proprio dei pullman dei van grandissimi e di portarla negli stati uniti per fare competizione anche ai servizio pubblico potrebbe funzionare negli stati uniti comincia quest'estate per i grandi eventi e poi potrebbe arrivare in europa già da settembre è molto interessante prendo il pullman di uber va puntata non usa quella di venerdì con un titolo abbastanza rock è più facile avere degli amici sfigati che di successo questo come sempre a tocco piano è nella newsletter di linkedin nella puntata quindi non news di venerdì perché così perché così perché è difficile avere amici di successo persone in gamba più avanti noi più intelligenti noi che hanno più successi noi e sarebbe molto più facile stare solo con gli sfigati e invece e invece no puntata di sabato news questa volta perché settimana scorsa abbiamo fatto tante puntate caffettino a due voci parliamo di pubblica amministrazione ai rivoluzioni in arrivo tantissime novità anche una parte della popolazione di 218 mila persone che dovranno ricollocarsi secondo uno studio lo vediamo insieme ma vediamo anche i numeri interessanti belli positivi anche per noi cittadini ma d'aiuto anche per noi nel mondo privato e finisce qui il riepilogone di questa settimana se ti è piaciuto il caffettino questa settimana che c'è da sette anni tutti i giorni 366 quest'anno puntate l'anno 7 su 7 non ci fermiamo mai mi raccomando metti un segui attiva la campanellina fai una bella recensione sopra il podcast seguimi su spotify consigliano un'amica consigliano un'amico ma se ti va conosciamoci anche mario chiocciola mario moroni puntuit mi racconti la tua vita che fai e come vuoi migliorare il mondo noi qui cerchiamo di farlo con pensiero critico sul mondo rinnovazione per essere un po sempre svegli questo era il riepilogone di questa settimana ma da domani chiaramente primissima mattina alle 6 c'è già la puntata nuova con una nuova news una nuova riflessione al venerdì e anche un caffettino due voci il sabato e poi un altro riepilogone altre news insomma sempre qui sempre belli carichi buona domenica rilassati ogni tanto stacca il telefono stacca le notifiche e tanto noi ci siamo qui domani buona giornata e buona domenica